Benvenuti a tutti, vediamo un piccolo documentario, un corto documentario che fu fatto qualche anno fa in Italia. ...federazione mondiale e la disputa del primo campionato mondiale nel novembre 2003. Italian Chess Boxing Federation, this wonderful arrangement and hospitality by the organizing committee and... Quindi io mi sono comunicata, poi ho visto il filmato e sono stata, sono affascinata da questo sport. Entrambi gli sport richiedono una personalità importante. Molti sconosciuti ma che hanno tutti una gran storia, quindi di Castelli che hanno la storia di quello che è stato tutto il territorio dell'Emilia Romagna. A nome mio, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, un augurio di buon proseguimento e di buona fortuna per il futuro della vostra attività federale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.